Adesso aspettiamo l'esito delle indagini, ma io non mollo, io non mollo Amoroma, a breve andrò anche al centro operativo, al COC e poi vi terremo aggiornati per quanto riguarda il ripristino dei servizi. Ma c'è soltanto un'idea se è doloso, se da che cosa può dipendere? Aspettiamo l'esito delle indagini. L'unica cosa, c'è un traffico fermo, come pensate di organizzare ora la zona? Vi daremo informazioni, vi daremo giornali. Questa è un'immagine molto evocativa e potrebbe essere associata anche alla fine del suo mandato riguardo le condizioni di Roma. Veramente io non ho parole per questa domanda, scusi, abbia pazienza.